Qualche giorno fa qui sul canale ho fatto un sondaggio. Diversi di voi mi hanno scritto che sul canale vorrebbero vedere dei contenuti riguardo agli investimenti. Ora ragazzi io non sono un esperto di investimenti ma sapete che su questo canale io vi racconto le mie esperienze. Ora che so gestire il mio denaro o dei risparmi voglio anche iniziare ad investire senza la pretesa di diventare straricco, milionario o che cosa. Ma avere le conoscenze di base per far lavorare un pochino i miei soldi e iniziare a creare un patrimonio, un portafoglio di investimenti. E' per questo motivo che oggi voglio parlarvi di XTB, uno dei maggiori broker quotati in borsa che opera da oltre 15 anni. Inoltre le società del gruppo XTB hanno guadagnato la fiducia di oltre 500.000 clienti in tutto il mondo. Sulla piattaforma possiamo trovare un sacco di cose. Azioni, ETF, commodities, crypto, CFD. Diciamo che ce n'è per tutti i gusti. Io sinceramente voglio iniziare da ETF ed azioni che appunto è l'argomento di questo video. Sugli ETF ho già qualche conoscenza perché da qualche tempo ho iniziato a fare un piano di accumulo proprio in ETF. Sulle azioni invece non ho molta conoscenza ma XTB ci può aiutare a risolvere questo problema. Infatti sul loro sito possiamo trovare un sacco di corsi gratuiti per imparare ad investire. Tra l'altro ragazzi dal 9 al 31 gennaio per chi apre un conto c'è una promozione speciale ma ve ne parlo più avanti. Ora facciamo una piccola premessa investimenti per principianti e il punto qual è? Io inizio ad investire perché ho capito come gestire i soldi, ho un fondo delle emergenze per far fronte ad eventuali problemi che possono insorgere, ho imparato a risparmiare costantemente tutti i mesi quindi posso dire che ho una situazione finanziaria sana. Quindi non vuol dire che se non arrivo alla fine del mese le mie entrate non sono costanti, non so gestire i miei soldi, non ho un fondo per gli imprevisti, non è che mi metto a investire con la speranza di poter risolvere magicamente tutti i miei problemi in una settimana. Gli investimenti non sono né gioco d'azzardo e neanche un gratta e vinci. È semplicemente una cosa che tutti possiamo fare studiando poi magari c'è chi è più portato chi meno ma le basi per investire qualcosina le possiamo imparare. C'è soltanto bisogno di mettersi un pochettino a studiare l'argomento e appunto adesso ti parlerò del corso che ho deciso di studiare con XTB. Quindi ragazzi mi raccomando investite in modo consapevole, non investite mai soldi che vi servono per vivere. I miei non sono consigli finanziari, ripeto, ma semplicemente vi racconto quello che faccio io. Ok, ma adesso andiamo un attimo sul mio computer perché voglio farti vedere il corso che ho deciso di studiare per imparare a creare un portafoglio azionario, che è una cosa che pian piano io voglio crearmi. Adesso andiamo a vedere il sito di XTB. Su questo sito possiamo investire in azioni a zero commissioni. Ora andando sul sito, noi andiamo su video corsi ed ebook, perché a spunto c'è tutta una formazione che possiamo frequentare. Qui abbiamo come creare un portafoglio azionario. Qui andiamo su guarda il corso ora e vi faccio vedere un pochettino che cosa possiamo trovare all'interno. Allora, innanzitutto i corsi sono totalmente gratuiti per chi apre un conto. Tra l'altro ragazzi il costo di apertura è zero e i costi di gestione sono zero, quindi è totalmente gratuito. Quindi che cosa abbiamo in questo corso? L'importanza di investire sin da giovani. Introduzione alle azioni, mercato azionario e i suoi partecipanti, strategie per investire in azioni, la psicologia e la ciclicità del mercato. C'è anche tutta una lezione sul rischio. Come vi dicevo, tutti questi corsi sono gratuiti per chi apre un conto su XTB e inoltre se lo aprite dal 9 al 31 gennaio del 2023, facendo un qualsiasi deposito, avete in regalo direttamente sul conto un'azione che può avere il valore fino a 30 euro. Che comunque è un buon primo passo per iniziare nel fantastico mondo degli investimenti. Poi, prima di farvi vedere come si apre un conto, voglio invece mostrarti un'altra cosa interessante. Se noi andiamo nella sezione ebook, in fondo abbiamo tutti gli ebook e poi gli etf più popolari su XTB. Questo per iniziare a capire cosa sono gli etf, come sono composti e tutto quanto, è veramente veramente interessante. Anche questo lo potete scaricare gratuitamente. Ora, come vi dicevo, io non sono un super esperto di investimenti, ma sugli etf ho qualche nozione, perché infatti ho iniziato a fare un piano di accumulo in etf. E secondo me gli etf sono uno strumento fantastico appunto per fare un piano di accumulo, che potrebbe essere per i nostri figli, per l'acquisto di una casa, per estinguere il mutuo o per altre cose. Comunque il piano di accumulo è un investimento che va fatto a lungo termine. Forse qualcuno di voi si ricorderà, io avevo fatto diversi piani di accumulo, tre piani di accumulo in fondi comuni di investimento, quando appunto ho iniziato a risalire, a risanare la mia situazione economica. Il problema è che però i fondi comuni di investimento hanno delle commissioni molto alte. Ora, io ci avevo guadagnato, e infatti poi quei soldi li ho utilizzato per fare i lavori in casa. Gli etf invece hanno un grandissimo vantaggio, e cioè che hanno dei costi di gestione molto più bassi rispetto ai classici fondi comuni di investimento. Ecco perché gli etf sono uno strumento che sta riscuotendo ormai da diversi anni un grandissimo successo, sia per i principianti che per i più esperti. Cosa sono però gli etf? Exchange Traded Fund. Immaginati come se fosse un cesto di frutta mista. Che cosa intendo con questo? Tu vai ad acquistare un prodotto, in questo caso un etf, che però al suo interno ha diversi prodotti. Azioni, obbligazioni, materie prime. In poche parole, sono dei fondi che replicano l'andamento di alcuni indici. Ma quali sono cinque caratteristiche degli etf per cui appunto così tante persone decidono di utilizzare questo prodotto per i loro investimenti? Prima di tutto la flessibilità. Possiamo scambiarli in borsa proprio come se fossero delle azioni. Seconda cosa abbiamo i prezzi in tempo reale. Infatti possiamo conoscere subito il risultato della nostra transazione. Tre, cosa molto importante, la diversificazione. Come dicevo prima, all'interno ci sono diversi prodotti che sono divisi per tipologia, per area geografica, per settori del mercato. E quindi con un solo prodotto hai la possibilità di investire in diverse azioni o addirittura anche su un solo indice. Come quello che potrebbe essere ad esempio l'SP500. Quattro, come dicevamo prima, costi bassi. I costi di gestione degli etf sono veramente irrisori. E' anche per questo che io non ho più investito in fondi di investimento ma ho iniziato a fare un piano di accumulo in etf. La quinta caratteristica è la trasparenza perché tu sai esattamente su cosa stai investendo. Comunque ragazzi, per quanto riguarda l'etf, scaricate l'ebook così vedete quali sono i 5 migliori etf dove investire. C'è tutta una spiegazione dettagliata, è gratuito e poi potete appunto aprire un conto per iniziare a fare un piano di accumulo in etf su XTB. Come vi dicevo prima, dal 9 al 31 gennaio 2022 se aprite un conto e fate un qualsiasi versamento avete in regalo un'azione che può valere fino a 30 euro. Ragazzi, mi raccomando, lo dico 100 volte investite consapevolmente, studiate andate a vedere su che cosa state investendo e non investite soldi che vi servono per vivere. Poi ognuno ovviamente è responsabile delle proprie azioni. Quindi, come si fa per aprire un conto su XTB? Vi basta cliccare sul link che trovate nella descrizione di questo video verrete reindirizzati su un questionario dove dovrete inserire i vostri dati personali in un primo passaggio. In un secondo passaggio dovrete rispondere a un sondaggio questo per capire il vostro livello di conoscenza per quanto riguarda il mondo degli investimenti. Una volta che avete fatto la registrazione ci sarà da attivare il conto. Per attivare il conto avrete comunque, vedete, un bottoncino grande così sulla schermata andate lì, dovrete scaricare l'applicazione XStation sul vostro telefono e da lì dovrete caricare i documenti oppure fare attraverso il riconoscimento facciale con la fotocamera che è una cosa che ormai se avete già aperto dei conti online è diventata la normalità. Dopo qualche ora vi verrà attivato il conto perché io l'ho fatto la mattina e nel primo pomeriggio mi avevano già attivato il conto e da quel momento potete fare il vostro deposito. Ora, ci sono tre modi per fare il deposito su XTB. Il primo è il bonifico bancario ci mette un paio di giorni tre giorni, quattro giorni dipende dalla banca perché è un bonifico estero oppure tramite Paypal se lo volete fare tramite Paypal ragazzi però registratevi a XTB con la mail che utilizzate poi per Paypal perché io invece l'ho fatto con un'altra mail e poi non riuscivo a fare il versamento con Paypal l'ho dovuto fare con bonifico perché comunque io l'azione in regalo che c'è in palio sinceramente me la prendo poi voi ovviamente decidete come volete il terzo modo è attraverso carte di credito, Visa o Mastercard comunque lo trovate una volta che aprite il conto per fare il deposito è abbastanza facile però vi raccomando guardate bene appunto come farlo anche la causale da inserire se fate il bonifico perché dovete indicare il numero del conto di XTB per cui volete fare appunto il bonifico e niente ragazzi questo è quanto io ho deciso di iniziare a fare qualche piccolo investimento in azioni e eventualmente appunto in ETF anche su questa piattaforma ovviamente non è che investirò chissà che cifre perché io sono all'inizio quindi ci vado abbastanza tranquillo perché io sono fatto così prima devo capire, devo testare inizio a piccoli passi e poi eventualmente vado a fare dei passi più grandi comunque ragazzi vi terrò aggiornato per quanto riguarda i miei investimenti eventualmente farò dei video periodici dove vi racconto in cosa ho investito come stanno andando gli investimenti e se ho perso tutti i miei soldi detto questo lascia un like se hai domande scrivi tranquillamente nei commenti e noi ci vediamo in giro